Buonasera, ben trovati con questa puntata dell'Indiscreto che dedichiamo a diversi argomenti, tutti molto attuali, perché con la campagna elettorale sono stati, non dico accantonati, ma forse trascurati i temi che sono centrali per lo sviluppo e il futuro di questa città, parliamo della presenza dell'industria, della raffineria, che forse chiamarlo la raffineria ormai diventa quasi improprio, delle bonifiche e di altri temi che sicuramente riguardano tutta la collettività, lo faremo con due ospiti, uno fisicamente presente qui in studio a Tele Gela, l'altro presente invece telefonicamente, entrambi vi passo subito a presentarli e a con noi c'è questa sera il senatore Pietro Leffice, buonasera Pietro. Buonasera Fabrizio e buonasera ai telespettatori, buonasera anche ad Andrea, so che è collegato telefonicamente. Ci ha anticipato, sì, al telefono invece abbiamo Andrea Turco, collega di Meridio News e poi vi spiegheremo anche perché del suo intervento telefonico in questa puntata, buonasera, ciao Andrea. Buonasera a tutti, ciao Fabrizio, ciao a tutti. Andrea sta presente con noi perché lui è un cronista molto attento, lavora per Meridio News da anni, però non ha mai mancato di essere sempre molto attento e vicino alle problematiche che riguardano la sua terra, la nostra terra che è appunto Gela, ha anche scritto un libro che abbiamo più volte commentato e seguito. Cominciamo con il senatore Lorefice, non voglio parlare più di politica, diciamo di elezione perché ne abbiamo parlato anche abbastanza, la gente forse potrebbe cominciare a essere anche un po' stanca. Però una domanda flash, ma veramente flash, soltanto per chiederti se come gruppo Movimento 5 Stelle, alla luce di quello che è successo in questi ultimi mesi, forse qualcosa rifareste in un modo diverso. Allora, se ti riferisci alle ultime amministrative, di diverso faremmo veramente poco, perché il discorso è tutto legato all'attuale legge elettorale, con una sola lista e in un contesto come quello che si è creato a Gela, diciamo che i margini erano veramente pochi, però nonostante noi accettiamo quello che è stato l'esito del voto, anche perché non è che i cittadini sono bravi e intelligenti quando ci votano, invece quando votano altri sono meno bravi e meno intelligenti. Aspettiamo con ansia di vedere al lavoro il nuovo sindaco, la nuova giunta e speriamo di essere sorpresi in positivo, perché noi abbiamo a cuore solo esclusivamente il bene dei cittadini e della nostra città. La botta è stata però forte, passare da un sindaco 5 Stelle, poi espulso e 4 consiglianti, 5 consiglieri a uno, è veramente dura da gestire, digerire e anche metabolizzare. Il sistema elettorale, ripeto, secondo il mio punto di vista, non solo il mio, è stato fatto in modo da un lato di penalizzare quei soggetti politici che vanno, almeno nella storia recente, sempre sono andati con una sola lista, perciò uno a pensare male ogni tanto c'è azzecca, diciamo che quella legge elettorale è stata fatta da un lato per razzoppare il Movimento 5 Stelle e dall'altro con la scusa di dare la governabilità al soggetto che arriva prima, anche al ballottaggio, con il solo 40% di preferenze, ha la maggioranza assoluta anche in Consiglio Comunale, che gli garantirà tra virgolette la stabilità, però considerato il gruppo che per ora mi limito a definire solo ampiamente eterogeneo, anche se potrei utilizzare altri termini, però evitiamo di usarli, perciò con quella grande eterogenicità io ritengo che avranno problemi di convivenza, ora si dovranno palesare anche nelle sigle dei loro partiti, a meno che non vogliono realmente cambiare totalmente casacca o rimanere come dicono loro civici. Questo d'altro, questa nuova maggioranza onestamente mi ricorda quando ho iniziato a fare il cronista, quando c'era il famoso pentapartito, quando c'erano veramente tante espressioni, tante rappresentanze e trovare l'intesa diventava difficile, tant'è che ogni sei mesi all'epoca era il Consiglio Comunale che leggeva il Sindaco, si cambiava Sindaco ogni sei, otto mesi. Andiamo invece all'attualità, facciamo termine anche Andrea Turco, cominciamo proprio con Andrea, dall'aspetto piuttosto che ci ha intrigato, perché il collega Rosario Cauchi pochi giorni fa ha pubblicato sul Quotidiano di Gelà un articolo che riguardava il collega Andrea Turco, perché Andrea ha avuto la folgurazione sulla via di Damasco di diventare azionista dell'ENI, detta così fa pure paura, fa impressione, in realtà Andrea ha acquisito un'azione dell'ENI e l'ha fatto con uno scopo specifico, quello appunto di poter intervenire all'assemblea degli azionisti e lo ha fatto e quindi gli chiedo intanto, perché non ha letto l'articolo di Rosario Cauchi, cosa hai detto in questa assemblea, soprattutto la reazione che dalla platea e da vertici hai avvertito come sensazione oppure anche come riscontro oggettivo? Sì, io sono andato insieme all'associazione a Sud e abbiamo chiesto, insomma abbiamo posto delle domande su alcuni specifici siti industriali che ENI gestisce in Italia, quindi Gela, Licata, Taranto e la Val d'Agri. Abbiamo quindi acquistato un'azione a testa e ci siamo iscritti all'assemblea degli azionisti che si è tenuto il 14 maggio nell'imponente palazzo di vetro nel quartiere Euro a Roma. Io ho posto un unico macro tema per così dire, ovvero la presunta riconversione industriale della raffineria che come sappiamo tutti ha chiuso nel 2014. Ebbene a distanza di 5 anni di questa riconversione si vede ben poco, quindi ho posto una serie di domande proprio sui specifici progetti che erano, se ricorderete, previsti dall'accordo del 6 novembre 2014, il cosiddetto protocollo di intesa che poi è impropriamente passato alla storia come accordo per la riconversione della raffineria. E quando tu hai esternato tutte le tue perplessità, tutti i tuoi dubbi, qual è stata la reazione della platea anche dopo il tuo intervento? Hanno fatto finta di nulla, hanno sorvolato o qualcuno invece ha provato anche a controbattere? C'era l'amministratore delegato Claudio Descalzi che più di una volta si è abbastanza risentito e poi ha risposto o almeno ha provato a farlo nello specifico dopo gli interventi orali. O meglio, in teoria la prassi vuole che lo staff dell'ENI elabori delle risposte dopo gli interventi orali. Un paio di volte Descalzi ha provato a intervenire anche proprio durante il mio intervento per specificare per precisare alcuni punti. Teoricamente non si può fare, ma segno che c'era un po' forse di nervosismo sotto questo punto di vista. Il che personalmente mi ha fatto anche piacere. Hai colpito nel segno evidentemente, no? Esatto, vuol dire che a qualche punto l'ho centrato. Ma ne posso dire due o tre? Io per esempio ho chiesto con te ragione della Green Refinery. Ricorderete doveva essere avviata nel secondo semestre del 2017, siamo nel 2019 e una data ancora non viene indicata. Descalzi ha ribadito che verrà avviata nel secondo semestre di quest'anno. Io gli ho fatto notare che comunque nel ritardo di due anni Descalzi dice che la colpa in questo caso è delle autorizzazioni concesse dal Ministero dell'Ambiente che sono arrivate solamente nel 2017. Vi ho fatto presente anche la questione dell'offshore ibleo. Ricorderete doveva essere realizzata prima una piattaforma petrolifera, la prezioso K, poi il progetto è cambiato in corso d'opera in maniera unilaterale da Eni che adesso prevede questa piattaforma che conduca il gas dei pozzi Argo e Cassiopea, quindi tra Gela e Licata, lo conduca poi all'interno del perimetro della raffineria. In questo caso Eni ci ha indicato come tempi per l'avvio, per la realizzazione del progetto del 2021, anche qui staremo a vedere, ma comunque anche questo è un ritardo che si accumula insieme a tutti gli altri, così come il progetto del guaiule, ricorderete la coltivazione di questa pianta misconosciuta che viene dall'America Latina e da cui si dovrebbe ricavare poi il lattice che serve per i guanti dei chirurghi. Anche in questo caso sono state avviate tre coltivazioni sperimentali, neanche una a Gela tra Barcellona, Pozzo di Cotto, Capodorlando e Cammarata e anche qui un anno di sperimentazione che non è andato bene visto che ha piovuto molto nel 2017, io ho fatto presente che nel 2018 ha piovuto ancora di più rispetto all'anno precedente e quindi anche qui Eni definisce il progetto un progetto vivo, ma non c'è indicato tempi, non c'è indicato modalità, quindi anche qui non sappiamo che cosa sarà di questa sperimentazione. Se proprio dobbiamo aggiungere il carico e qua faccio interviene al senatore L'Olefice, la Eni ha anche da poco inaugurato questo impianto West Fuel, è un impianto anche pilota per il trattamento di rifiuti speciali, però la cosa che ci ha colpito quando Eni ci ha fatto visitare a questo piccolo impianto, perché è ancora un impianto pilota, è che addirittura i rifiuti arrivano da Ragusa, Eni acquista rifiuti a Ragusa per poterli poi trattare a Gela, anche questa sembra una contraddizione. Io ho fatto presente pure questa cosa, mi è stato risposto che i rifiuti vengono da Ragusa perché lato CL2 è in fase di liquidazione e quindi non poteva garantire continuità nella fornitura di rifiuti, resta il fatto… In fase di liquidazione da almeno 10 anni, non solo quanti anni in fase di liquidazione la tua CL2, non finisce mai. Ho fatto presente anche questa cosa, l'avvento orale, poi su questo non mi è stato più risposto. Vi racconto questo, c'è stata anche questa discrasia tra quello che Eni ci ha detto, perché noi prima si presentano delle domande anche in forma scritta e a queste domande Eni risponde sempre in forma scritta e consegna questo report il giorno stesso dell'Assemblea. Se le risposte scritte non convincono c'è la possibilità di un intervento orale, che è quello che ho fatto io. C'era una cosa che non mi convinceva proprio sul West to Fuel perché il progetto pilota prevede anche che si possa ricavare dell'acqua dai rifiuti. A me in forma scritta Eni dice quell'acqua verrà utilizzata per usi agricoli e industriali, quindi non è potabile. Mentre invece nella sua relazione introduttiva Descalzi addirittura si è spinta a dire il prossimo anno ci vediamo tutti all'Assemblea degli azionisti dell'Eni, porterò l'acqua dal progetto West to Fuel e la berrò insieme a voi. Una leggera contraddizione, ecco. O è l'uno e l'altra. O è l'uno e l'altra. C'è stato un avvocato di Licata che è intervenuto proprio sul sito specifico di Licata poco dopo e gli ha fatto presente che non ci vorrò essere quando lei la vorrà bere quell'acqua perché non mi sembra che possa andare a buon fine. Resta il fatto di questa contraddizione. Tra l'altro mi hai fatto ricordare anche su questa cosa dell'acqua, anche l'ex presidente della regione Cuffaro che beve l'acqua dal modulo flash del distratore, quindi sappiamo poi tutto come fita. Senatore L'Olefici abbiamo ascoltato il collega Andrea Turco, una tua considerazione anche su quello che ha detto? Non solo considerazioni, perché con i vertici di Eni sono mesi che noi abbiamo dei confronti sia a Roma, ma anche qua, sia a Gela con Enimed, ma anche con gli attuali vertici del petrolchimico. Perciò viene monitorato costantemente sia quello che è il contenuto nel protocollo d'intesa siglato nel 2014, le varie fasi evolutive. In materia di Green diciamo che le responsabilità sembra che varino a secondo dell'interlocutore, al di là dei ritardi più o meno veritieri con le autorizzazioni tra regione siciliana e ministero. Poi ci sono delle motivazioni oggettive, perché da quello che è emerso, anche facendo delle domande più puntuali, è che il progetto iniziale prevedeva una serie di attività che poi, una volta attivate sul campo, hanno prodotto delle variazioni in corso d'opera, perciò quello che era la previsione di utilizzo della vecchia impiantistica si è rivelato un passo falso. La tecnologia è un cambio a sé. No, hanno dovuto rifare tutte le linee perché quelle precedenti erano talmente marce da non poter essere utilizzate, perciò l'evoluzione ha permesso da un lato di mantenere le maestranze che stanno continuando a lavorare per più tempo rispetto a quello previsto e ora i ritardi che di mese in mese spostano questa fantomatica data di inaugurazione, ora vediamo, hanno pure pubblicizzato l'open day, vedremo cosa, però ripeto, l'Eni continua almeno a parola a essere disponibile, è aperta, i colloqui ci sono, anche in tema di ex Prezioso K, perciò la struttura a terra che dovrà svolgere le funzioni previste che dovranno essere effettuate sulla Prezioso K, cioè la filtrazione del gas prima ancora di essere immesso nel gas dotto Green Stream, lì si sono rallentate le procedure, anche se da un lato mi hanno prospettato quello che era un rinnovo di un'autorizzazione di via, perciò un semplice rinnovo, la cosa anomale è che conoscendo Eni come sono così precisi e organizzati, hanno uno staff di professionisti molto ampio, l'anomalia è che se io so che ho una scadenza a giugno 2019 non presento la richiesta di rinnovo a marzo, però me l'hanno comunicata a fine marzo, considerate che già il 4 aprile il Ministero dell'Ambiente aveva già assegnato alla Commissione competente la valutazione del rinnovo e in più il dirigente generale mi ha pure tranquillizzato, di queste cose ne ho parlato sia con il vertice di Enimed che con di Eni, dove con quel tipo di procedura non ci sono problemi nel proseguire tranquillamente i lavori, perciò non c'è necessità di interromperli, perché in quel caso il Ministero considera continuità nell'autorizzazione data, perciò il dirigente generale mi ha detto ma queste cose i dirigenti ai vertici di Eni riconoscono meglio di noi, perciò il Senatore dice che glielo comunichi che qualora gli fosse sfuggito possono andare avanti tranquillamente, male che va la colpa del ritardo e dell'autorizzazione che è un atto dovuto, se non ci sono variazioni sostanziali peggiorative, ma in questo caso sono migliorative, perché avevamo da un lato prima una piattaforma da far ammare, ora abbiamo una struttura a terra, perciò sicuramente le condizioni di valutazione di impatto ambientale sono migliorative, perciò nulla a questio sulla quasi automatica rinnovo dell'autorizzazione. Quindi tu dici sono ritardi strategici? No, sono ritardi dovuti, penso anche alla gestione delle maestranze, perché loro in quel protocollo di intesa hanno preso l'impegno di garantire all'incirca 1.800-2.000 persone di indotto e perciò penso vogliono prima chiudere o arrivare quasi alla chiusura dei lavori della Green per poi spostare le maestranze negli altri lavori. E da una certa continuità. Voi siete stati invece, Senatore, molto critici in questi mesi, forse anche in questi anni, sull'argomento bonifiche, perché Eni è sciorinato in questi anni dei dati in cui elenca anche i soldi investiti, i milioni di Euro per le attività di bonifica da quando è stato firmato quel famoso protocollo. Voi invece non siete mai convinti, anzi l'avete criticato e contestati questi numeri e anche siete poco convinti dell'attività di bonifica svolta sin qui? I dati dal Ministero dell'Ambiente sono pubblici, anche i dati ISPRA, se andate a vedere quelli che sono i dati relativi alle attività di bonifica in tutti i siti di interesse nazionale italiani, compreso quello di Gela, vedete delle percentuali di attività iniziate e di tutte le attività, anche se qualcuna dicono completata, nessuna risulta come bonifica conclusa, perciò se andate a vedere la percentuale delle bonifiche che risultano all'ISPRA, al Ministero dell'Ambiente come concluse e validate, trovate 0%, perciò i dati sono incontestabili, però grazie a Dio anche a fine dell'anno scorso dal Ministero dell'Ambiente sono usciti altri tre decreti per avviare altrettante bonifiche, già i vertici di Eni e di raffineria di Sindial hanno dato rassicurazioni che hanno già avviato le fasi per quanto riguarda la bonifica dell'ex ISAF, dei capannoni, c'è una parte relativa, siccome lì ci sono le problematiche legate alla componente radiattiva dei vecchi impianti delle fosforiti, perciò hanno già iniziato delle attività di precanterizzazione, stanno preparando delle aree chiuse perché non si può operare all'esterno, però anche lì si sta andando avanti e ci sono dei dati tra virgolette anche confortanti su alcune nuove tecniche cosiddette in situ di disorbimento termico che stanno permettendo di fare le bonifiche senza movimentare terreno come si faceva prima, perciò nell'isola 32 in alcune delle aree dell'ex discariche si sta andando avanti con questo tipo di tecnologia, ma noi continuiamo a monitorare e spero di andare a breve dopo due mesi a constatare con mano l'avanzamento dei lavori. Al telefono c'è ancora Andrea Turco, invece Andrea vorrei far intervenire anche su un altro aspetto di cui si parla ormai da mesi e su cui è intervenuto anche il senatore Lorefice in queste settimane, cioè dell'area di crisi industriale complessa, perché sapete che già da tempo si sa con ufficialità che sono stati stanziati 25 milioni di Euro per realizzare attività di piccole e medie imprese. È stata fatta un elenco, una lista di chi ha aderito a questa call di Invitalia, adesso è stata anche prorogata, però anche questo aspetto ha avuto delle perplessità, delle critiche, per questo volevo l'intervento anche di Andrea, perché sembrava anche qui una call con dei requisiti talmente rigidi che qualcuno ha detto è come quando si fa un concorso pubblico, se sai che devi far vincere questo concorso ad una determinata persona, allora metti quei requisiti tali in modo che o vince quello o vince quello. Qua è sembrata però la stessa cosa, sono talmente stringenti i requisiti che soltanto le medie e grosse aziende di grandi capacità di dimensione fatturato potevano partecipare, così Andrea? La sensazione è quella, così come quella che i 25 milioni di Euro sono ovviamente una cifra troppo bassa rispetto a quello che servirebbe per davvero riconvertire l'enorme perimetro industriale. Questa cosa l'abbiamo detta più volte, la regione al momento è riuscita regione e ministeri in realtà in tandem a garantire questi primi 25 milioni di Euro, ma davvero l'auspicio è che siano i primi perché questi non bastano sicuramente. C'è poi anche un altro problema, i terreni all'interno del perimetro industriale sono ovviamente nelle condizioni che conosciamo tutti, quindi sarebbe stato per esempio auspicabile immagino che fossero consegnati, se non bonificati, quantomeno messi in sicurezza, quindi è chiaro che in queste condizioni le uniche aziende che vogliono e che potrebbero insediarsi sono legate esclusivamente sempre all'industria petrochimica, quindi anche qui la riconversione industriale è molto parziale. Non mi sembra convinto l'orefice, perché? No, anche perché quello che è il piano di riconversione e riqualificazione industriale, il cosiddetto PRRI, dell'area di crisi industriale complessa di Gela, che non ricomprende solo Gela, ma tanti altri comuni delle tre province limitrofe, non solo provincia di Caltanissetta, ma anche provincia di Ragusa, in parte Catania perché rientra Caltagirone, e allora gli insediamenti non devono essere dentro al perimetro di raffineria, possono essere in area industriale, ma anche all'esterno o in altre aree industriale dei comuni ricompresi in questo elenco. Perciò l'auspicio è che sicuramente all'interno di raffineria, fino a quando non si completeranno le bonifiche, non si facciano insediamenti, perché è giusto così, o solo in quelle aree che avranno i requisiti per poter insediare nuove attività produttive. Mentre per quanto riguarda le risorse economiche, il paradosso è un altro, perché lì, dopo mesi di interlocuzioni, sia con Invitalia, ma anche con il MISE, con il Ministero dello Sviluppo Economico, quello che emerge, ahimè, tragicamente, è che la normativa di riferimento, ad esempio il bando con la 181 e l'89, è una legge vecchia, nonostante aggiornata più e più volte, poco appetibile rispetto ad altri bandi di tipo regionale, ciò dobbiamo attendere, però siamo fiduciosi perché ai segnali che giungono a Invitalia, la manifestazione di interesse di diverse aziende c'è, il motivo della proroga di un mese è stato dato proprio su richiesta di alcuni imprenditori che hanno interesse nel completare l'iter e la documentazione necessaria, però i 25 milioni, paradossalmente, che sembrano pochi, speriamo vengano tutti investiti in questa prima fase, anche perché all'interno dell'accordo di programma non c'è soltanto la finestra o il tipo di attività legata alla 181, ci sono altri tipi, altri strumenti che possono essere attivati, perciò se ci sono i gruppi industriali che hanno interesse o intenzioni di insediarsi all'interno dell'area di crisi industriale complessa, anche nell'area di Gela, hanno la possibilità di interloquire il rapporto 1 a 1 con Mise e Invitalia e attivare quelle procedure che permettono il reperimento di risorse specifiche ben più ampie rispetto ai 25 milioni, ai 15 più 10 messi a disposizione da Ministero e Regione Siciliana. Ma non si è la sensazione che però non ci sia la svolta, nel senso che mi pare di aver capito che chi ha aderito a questa prima manifestazione di interesse, adesso con questa proroga, sia sempre di un settore specifico legato alla grande e media industria, ad attività legate in modo anche indiretto sempre alla raffineria, alla petrochimica? Allora direi che non ci hanno fornito perché per motivi anche legati alla privacy, fino a quando non si completa, non si presenta la pratica, noi non abbiamo la possibilità di capire quali soggetti. Un conto è la Col, ma la Col non ha definito una platea chiusa, perché se andate a vedere nel piano di riconversione ci sono una serie di indicatori, sono stati emessi come settori prioritari, 21 codici a teco, tra questi codici ci sono anche quelli legati all'industria alimentare, all'agriindustria, perciò a quel comparto legato all'agricoltura, perciò se c'è qualcuno che vuole investire in un tipo di azienda industriale legata all'agricoltura lo può fare benissimo, vuoi investire nel comparto legato al manifatturiero lo puoi fare, perciò non è vero che quel tipo di strumento è legato solo e esclusivamente al comparto di industria pesante, petrolchimica, perché tra l'altro proprio quelli specifici non sono neanche ricompresi tra quelli prioritari. Tra l'altro quando è stato ospite qui… Però se posso aggiungere per esempio un'azienda di agricolo, anzi di agroindustria, che voglia di investire in un territorio come la Piana di Gela dove ci sono ancora gli 80 trivelle, gli 80 impianti di perforazione con le condutture che sono un colabbrodo, con una situazione che conosciamo tutti, quindi è chiaro che ovviamente è l'auspice che qualcuno arrivi, però nel frattempo forse bisognerebbe consegnare un territorio quanto più salubre possibile. Ecco, quando parliamo di bonifiche forse anche su questo servono a questo. Però ripeto, vorrei lanciare, perché spesso lanciare segnali positivi non è solo un esercizio filosofico. Caro Andrea, ormai la tecnologia o le tecniche di coltivazione anche agronomiche vanno oltre a quello che è il potenziale suolo inquinato. Io ricordo a me stesso, comunque gli addetti ai lavori conoscono benissimo le attività di produzione fuori suolo, idroponica, addirittura si va all'aeroponico. Ci sono gli olandesi che nonostante non hanno le pianure, una piana come quella di Gela riescono a produrre benissimo, anche con livelli di qualità altissimi. Ripeto, la nostra piana al di là delle aree che hanno una potenziale contaminazione, ma ce ne sono tantissime altre che sono esenti da questo tipo di contaminazione e di conseguenza le aziende si possono tranquillamente insediare. Il paradosso è che da noi ci sono coltivazioni tipo quelle dei carciofi e non solo, e perciò qua si fa soltanto la produzione spicciola anche a pieno campo, ma poi tutta l'attività legata alla trasformazione si fa fuori. E questo è sicuramente un nostro limite. Poi c'è un altro aspetto che è quello che riguarda però i trasporti. Cosa parla di trasporti si parla di infrastrutture e quindi si parla di rotaie, circolazione anche gommata su strada e lì speravamo che quando venne il Ministro Toninelli ci portasse delle buone nuove. A parte il discorso del porto che ha avviato, ci aspettavamo qualcosa di più sulla tangenziale, sulla Siracusa Gela, che non a caso si chiama Siracusa Gela, non Gela Siracusa, perché i cantieri continuano a essere appaltati sempre dal lato orientale, quindi la Siracusa sempre a salire verso il nostro territorio. Però sulla tangenziale forse l'oreficio aveva delle novità. Sì, ma anche perché pure il nostro Ministro Toninelli quando è venuto qua, quando abbiamo fatto il vertice con Anas, oltre che è un'attività che seguiamo da mesi e io personalmente sia con Danilo, con la struttura del MIT, i colleghi di Commissione Infrastrutture, perciò con lo sblocca cantieri e il decreto crescita in generale, tra le opere inserite in una lista prioritaria c'è anche la tangenziale di Gela. Stiamo parlando di un intervento, oltre che aspettiamo da non so quanti anni, 15 anni, 20 anni, perché dopo la Siracusa Gela abbiamo anche la fantomatica tangenziale, nonché la nord-sud. Però sulla tangenziale quella è un'opera inserita tra quelle prioritarie e perciò entro la fine di quest'anno avremo il progetto esecutivo, sol perché quell'opera già è inserita in un elenco e ci sono dei fondi comunitari che se non vengono avviati cantieri entro il 2020 e spesi tra 2020 e 2021, comunque buona parte, tornerebbero indietro e perciò c'è il pieno impegno di questo governo, del Ministro e anche della deputazione e dei parlamentari locali, perciò quella è una delle opere che andrà in cantiere da qui a breve, perciò due lotti per un totale di 316 milioni di Euro e permetterà di scaricare tutto il traffico pesante proveniente sia dalla zona della 115, lato Vittoria per intenderci, sia dalla Gela Catania, perché andrà a bypassare tutto il traffico che per ora passa da Via Venezia e anche dal tratto della 115 che passa per Manfria e per Piano Marina, perciò per darvi un'idea di quello che è tracciato andremo a collegare dallo svincolo che c'è di fronte Farello, assa attrezzato ai servizi, lì ci sarà un altro svincolo passando sulla Gela Catania, continuerà nella zona limitrofa al carcere nuovo, per poi passare dietro Marchitello, dietro Manfria, un piccolo, ci sarà pure un microtunnel che dovrebbe passare sotto Villa Daniela o comunque in quella zona per approdare alla zona industriale di Butera collegata con lo svincolo per la scorrimento veloce, perciò andremo a scaricare tutto il traffico pesante che ingolfa sia le zone balneari di Piano Marina, Manfria e Roccazzelle, perciò con grande beneficio, anche perché quei cantieri con una mole di risorse di quel tipo permetterà anche a tante maestranze e tante imprese di lavorare Andrea, questo forse si potrà realizzare perché se no i soldi torneranno indietro, quindi su questo forse veramente possiamo essere leggermente e cautamente ottimisti Condivido, questa mi sembra una buona notizia, se posso fare un appunto, forse dal Ministro Toninelli forse ci saremmo aspettati qualcosa in più sul porto, lo sappiamo tutti che è la competenza della Regione, però insomma che venga il Ministro per ricordarci una cosa già saputa mi è sembrato un po' poco, ecco è vero che Musumeci e Toninelli non si piacciono e che da tempo c'è il contrasto tra i due, però forse qualcosa in più sul porto io credo ce lo saremmo potuti aspettare Anche perché il piano delle caratterizzazioni dipende dal Ministro dell'Ambiente, non dipende da Musumeci mi pare, per esempio Se volete vi do pure informazioni perché sto seguendo anche il porto di Gela, perché ripeto tra le attività di commissione, attività parlamentari, qualche trasferta anche fuori dalla nazione, il mio ruolo di parlamentare mi porta a seguire direttamente anche vicende di carattere locale, perciò onde fugare dubbi o veicolare informazioni errate, perciò la procedura è solo ed esclusivamente in capo alla Regione siciliana. Il Ministero competente in questo caso essendo il porto rifugio di Gela rientrando nell'area SIN a mare è intervenuto soltanto per la parte relativa alla valutazione impatto ambientale o esclusione cosiddetta via e vi posso dire che dal momento in cui è arrivato presso il Ministero, dopo pochissime settimane, il Ministero ha fatto un tavolo tecnico specifico rimandando la palla, per usare un termine calcistico nel campo della Regione siciliana Musumeci e in compagni e ancora stiamo aspettando, gli hanno dato un termine non perentorio per fortuna, perciò entro fine maggio devono produrre sia la nuova planimetria batimetrica che lo studio delle correnti e una implementazione di quella che era la relazione generale. Finalmente l'altro ieri, o meglio ieri il Comandante della Capitaneria di Porta ha autorizzato le attività per i rilievi batimetrici che si dovrebbero concludere entro pochi giorni, a breve dovrebbero partire pure le attività per lo studio delle correnti che dovrebbe durare una ventina di giorni salvo condimeteo sfavorevoli e perciò nel giro di un mesetto dovrebbe la Regione siciliana con la struttura preposta che è quella della protezione civile, completare le attività. C'è il mio collaboratore parlamentare che ormai è diventato amico sia del responsabile unico del procedimento che nella sede di staccata di Catania, nonché con i vari dirigenti presso la Regione siciliana, perciò fino a quando la Regione siciliana non completa la documentazione il Ministero non si potrà esprimere, lo farà in tempi brevissimi. Io ricordo che il direttore del Genio Civile, il direttore generale se non ricordo male, due anni fa venne a dire nello consigliare stizzito ai consiglieri comunali che si era sentito offeso per essere stato convocato in consiglio comunale perché ha detto il porto ormai è cosa fatta, sta insistendo tutto, ormai l'itero è avviato, è questione di sei mesi andrà in appalto, sono passati almeno due anni e l'appalto finalmente forse può andare in gara entro un breve periodo, non è così Andrea? Ti ricordi l'ingegnere come si chiamava? Cala? Calafato. Calafato, l'ingegnere Calafato che era quasi offeso di essere stato scomodato da Palermo per venire a rendicondare in consiglio comunale lo stato dell'arte sul progetto del porto. Il primo RUP. È il primo RUP. Ti ricordi Andrea? Devo dire che la vicenda del porto è una vicenda che ormai ci trasciniamo anche a livelli ridicoli perché una città che tenta di riconvertirsi e che non ha nemmeno, anzi che ha un porto spiaggiato, devo dire che ha ben poche prospettive quindi è chiaro che bisogna accelerare anche sotto questo punto di vista. Vorrei un ultimo commento Andrea, su che cosa dobbiamo aspettarci invece in futuro visto che finalmente il quadro politico è delineato, adesso non ci sono più alibi, prima c'era un sindaco che aveva 30 consiglieri contro, adesso almeno quanto meno sulla carta c'è una maggioranza molto ampia, un'altra si diceva una maggioranza bulgara e un'opposizione che teoricamente lì è ben definita, quindi è un'amministrazione che se troverà la quadra al suo interno e forse i problemi possono nascerne lì, non dimentico la sindacatura Fasulo, può governare tranquillamente e prendere decisioni senza avere nessun tipo di ostacolo davanti. Vedremo perché come diceva giustamente Pietro prima, la coalizione che ha consentito la vittoria di Greco è molto eteriogenea, quindi bisognerà vedere se gli appetiti dei partiti spunteranno voraci immediatamente o lasceranno quantomeno un po' di tempo per allestire qualcosa per la popolazione che devo dire ne ha davvero bisogno, perché quello che si percepisce da fuori, io vivo a Palermo e torno quando posso, è una città da tempo stagnante e in cui c'è certi temi, anche il porto di Gela, le infrastrutture, le bonifiche, quello che abbiamo citato, sono temi che si ripetono da tempo in cui sostanzialmente non si vedono grandi miglioramenti, quel dato che Pietro città delle bonifiche effettuate allo 0% è un dato che esiste da oltre 20 anni, quindi è chiaro che qualcosa deve avvenire perché altrimenti l'emigrazione giovanile ma non solo continuerà ad essere la cifra portante della città. Sulle bonifiche se volete vi posso dare anche ulteriori approfondimenti anche legati a un articolo che è uscito domenica sulla Sicilia, non so se avete visto, c'erano dei proclami fatti dalla regione siciliana che parlava finalmente hanno sbloccato le somme per quanto riguarda i sin di Priolo e Milazzo, parliamo di circa 65 milioni di euro, come si suol dire, hanno parlato anche di questa nuova struttura, si occuperà delle discariche sparse per la Sicilia, parliamo di 512 discariche, ma ahimè anche lì c'è una nota dolente perché per quanto riguarda il sito di Gela e Biancavilla, mentre per Priolo e Milazzo c'erano già dei progetti cosiddetti esecutivi e c'era anche un accordo di programma firmato, per quanto riguarda Gela e Biancavilla, ma Biancavilla è un piccolo sito di interesse nazionale che ha problemi di altra natura, sicuramente non quelli del sito come quello di Gela, noi abbiamo da mesi pressato la regione siciliana affinché tutte quelle per la cosiddetta ricognizione delle somme legate all'ex ufficio del commissario straordinario per le bonifiche in Sicilia, perciò la ricognizione finalmente è stata mandata, la relazione da pochi giorni direttamente al Ministero, ma a seguito di questo bisognerà, proprio perché mancano sia i progetti esecutivi e in questo caso stiamo parlando delle vecchie somme residue di circa 55 milioni, di cui 25 per il biviere di Gela e 30 per gli altri siti, tipo la discarica Cipolla e la Marabusca, solo che Marabusca ormai è un SIR, è un sito di interesse regionale, mentre Cipolla è sempre un SIN, infatti col Ministro Costa da mesi abbiamo e con l'ISPRA il mio pressing è continuo perché ho detto anche al nostro Ministro, perciò al nostro Governo che lo Stato devo cominciare a lanciare segnali chiari, iniziando a lavorare su cosa? Sulle bonifiche di competenza statale o nazionale o in capo agli enti pubblici. Dal Ministero però è uscita una marea verità, che è quella legata alle risorse, perciò la Regione siciliana se non ci fosse stato il mio intervento e anche l'intervento del Ministero di sollecito per rindirizzare quelle che erano le somme, perché il paradosso ulteriore era che la Regione siciliana non aveva le carte per effettuare la ricognizione e l'aggiornamento e ora quello che era l'ufficio, l'ex ufficio speciale per le bonifiche, composto da 70 persone, leggendo il giornale mi è venuto di sorridere, ma non un riso amaro, hanno messo soltanto 12 unità più il dirigente. 12 unità per 512 di siti? 12 unità, anche solo per la gestione dei siti, perciò il Governatore Musumeci e anche l'assessore Arramo dovrebbero cominciare a pensare a implementare quello che è l'ufficio speciale, perché con quelle risorse saranno destinati a un triste fallimento, ma io non voglio che l'ufficio speciale fallisca, perché un loro fallimento significa un fallimento del nostro territorio e di nuovo una mancata bonifica, perciò è un mio appello accorato, io sono a piena disposizione di tutti, al di là delle appartenenze politiche, perché noi dobbiamo risolvere i problemi di questa terra che patisce da oltre 50 anni il malgoverno, a me non interessa dire sinistra, destra, centro, poco importa, mettiamoci assieme e risolviamo le questioni, perciò poi diciamo se volete vi lascio paternità, maternità, non mi interessa, noi dobbiamo far parlare i fatti, perché di chiacchiere non ne possiamo più nessuno, nei cittadini, ma neanche io personalmente e chi mi conosce, questa non è retorica, questo è un mio obiettivo. Io non siamo più neanche in campagna elettorale, quindi non c'è manco questo rischio di dire che è un proclama… Siamo in campagna elettorale, però se mi fai chiudere un passaggio sull'europea, secondo me bisogna farlo. Sì, è sempre in campagna elettorale, vero Andrè? Sì, è sempre in campagna elettorale. Domenica andiamo al voto e per l'europea c'è un silenzio tale, molta gente non sa neanche che domenica c'è un voto, un voto importante e poi se vuoi, in chiusura, se mi permetti, anche perché io essendo capogruppo del Movimento 5 Stelle, in commissione per le politiche europee, non parlare, non avere l'opportunità di spendere qualche minutino anche per questo. Siamo in chiusura, siamo in chiusura, lo puoi fare allora, siamo in chiusura, approfitta perché siamo in chiusura. No, niente, un passaggio veloce, l'importanza di andare al voto e l'importanza delle elezioni europee è davanti a tutti noi, ormai direttive e regolamenti comunitari entrano nella vita di ognuno di noi, paradossalmente anche le norme tecniche per fare la caffettiera hanno una direttiva e tutto passa dall'Europa, salute e ambiente passa dall'Europa, tutte le maggiori direttive, le più importanti direttive sulle emissioni, sull'inquinamento, su rifiuti vengono prodotte in sede di Unione Europea, perciò è importantissimo. Poi in questo momento congiunturale dove i maggiori gruppi, i popolari e i socialisti europei che sono in grande crisi e sono stati coloro che fino ad oggi hanno costretto nazioni come la Grecia al default e perciò con la Troica a una politica di rigore assoluto, anche l'Italia è stata messa in difficoltà da queste politiche di austerity, perciò l'invito è quello di andare a votare, l'importanza del voto all'Europa è fondamentale per un'azione come l'Italia, perciò informatevi e andate a votare consapevolmente. Grazie, grazie senatore Lorefice e grazie anche al collega Andrea Turco che è stato con 15 euro, mi turberò parecchio. Quelle 15 euro spese per quella singola azione sarà veramente la tua rovina giornalista, no speriamo di no, ci auguriamo di no. La compro io, così il prossimo anno vado io. Il prossimo anno andiamo in terra. Saremo in compagnia allora, ci proverò pure io Andrea. Grazie e buon lavoro anche a te Andrea. Buon lavoro a voi e grazie ancora per avermi invitato. Grazie al senatore Lorefice, tenetevi in contatto con il collega Nuccio Di Paola perché quando dice, ecco per la regione, allora mandiamo Di Paola a sollecitare l'assessore, in questo caso non ministro competente affinché tutte queste azioni per il territorio non vengono veramente disperse e si continui a fare pressi. Fabrizio, ti posso dire, io ti ringrazio per avermi invitato, ma con Nuccio Di Paola e con tutti i nostri portavoce regionali e nazionali siciliani, considerate che siamo un bel po', solo i nazionali siamo una cinquantina più 20 di parlamentari regionali, siamo veramente una forza e lavoriamo in sinergia e perciò con Nuccio tantissime le attività divise per competenza, perché quando la competenza è regionale, abbiamo Nuccio Di Paola alla regione, quando la competenza è nazionale o anche europea, per il mio tramite si pensa sia a Roma ma anche a Bruxelles. Ti do 30 secondi per due domande in una, ma ho 30 secondi veramente, una mi risponde in la flash veramente, questo governo 5 Stelle e Lega durerà tutto il mandato? Secondo me durerà per il semplice fatto che la Lega senza il Movimento 5 Stelle avrebbe poca vita, perché verrebbe fagocitato di nuovo a Forza Italia e forse anche a Fratelli d'Italia, con noi ha avuto la possibilità di realizzare tante di quelle che erano gli obiettivi anche del contratto di governo, noi chiaramente abbiamo fatto più dell'80% delle norme parlamentari passate, però ripeto, assieme abbiamo lavorato e prodotto nel rispetto di qualcosa che abbiamo messo nero su bianco, rimanendo però nei rispettivi ambiti e con le caratterizzazioni politiche che in alcuni ambiti sono inconciliabili, però per il bene della nazione andiamo avanti e secondo me non far saltare da parte della Lega questo governo ne avrebbe soltanto un danno. Michael PD? Allora, Michael PD paradossalmente è stato il PD a non voler provare una forma di governo con noi, perciò noi abbiamo aperto anche a loro, il loro capo reale, o almeno dal tempo, Matteo Renzi con quell'uscita pubblica ha messo una pietra tombata. Di conseguenza le scelte le hanno fatte loro, gli italiani per fortuna sono attenti, hanno visto chi ha fatto saltare il banco, noi ci sentiamo con la coscienza a posto. Un'ultimissima cosa, il sindaco greco conosce il numero di telefono, sa che a Roma ha un riferimento a qualsiasi necessità che riguarda appunto la città di Gela. Sicuramente, il sindaco greco ha il mio numero di telefono, io sono a disposizione per ogni vertenza che ha a che fare col mio territorio, io sono un parlamentare, chiaramente non solo di Gela, visto che il mio collegio comprende 54 comuni, ma sono gelese e perciò ogni fine settimana o quasi mi ritrovate per strada e a prescindere il sindaco di Gela, ma non solo, dei comuni sanno che io sono un loro rappresentante a Roma e sono sempre a disposizione. Grazie, alla prossima puntata con l'Indiscreto.